davide presentazione della tua squadra del vento ariel eccoci qua come tutti gli anni siamo a presentare lo staff che vi coccolerà a livello itico e non solo durante la stagione estiva partiamo con tofa lui il mio aiuto cucina ecco lui prepara tutte le basi per poi poter dare da mangiare a tutta la gente che ci viene a trovare poi abbiamo federico lui è di Sori è un nuovo ingresso nel nostro ristorante fa il lavapiatti poi abbiamo Simona Simona di Recco lei lavora in sala fa la cameriera poi abbiamo la Chiara lei è un indigena del luogo è la figlia di una mia amica di infanzia e di camogli anche lei lavora con noi da quest'estate e poi l'ultimo è Luca il mio fido Luca con lui è con me da un po' di anni è diciamo responsabile della sala è colui che mi sopporta più di tutti gli altri perché mi vive quotidianamente da tanto tempo quindi te li sei scelti in base al sorriso vedo che sono sempre tutti sorridentissimi sono tutti bravissimi sono gentilissimi educatissimi soprattutto coccolatori di clienti sono persone che hanno una gran voglia di lavorare questa è una cosa che dovrebbe essere scontata ma molto spesso non lo è purtroppo quindi mangiare bene bere bene essere coccolati a vento Ariel si può si si può vi aspettiamo numerosi come sempre niente auguriamo una buona benestate a tutti siamo sempre aperti non chiudiamo mai